Buongiorno, benvenuti al consueto appuntamento con le notizie sul traffico. Gli spostamenti sono in aumento lungo le direttrici che conducono i centri urbani per i consueti spostamenti pendolari del mattino. Questa mattina gli spostamenti sono condizionati dalla pioggia soprattutto in A14. Con l'ausilio della grafica vediamo alcune criticità sulla strada grande comunicazione Firenze e Pisa-Livorno. Al momento ci sono due chilometri di code per lavori tra Ginestra, Fiorentina e La Strassigna in direzione ai Firenze. Abbiamo dei rallentamenti in area bolognese sulla A14 tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. In Sicilia abbiamo delle criticità code sulla tangenziale di Catania tra Mister Bianco e San Giorgio e per neve abbiamo rallentamenti sulla strada statale 289 tra Passo dei Tre e Cesarò. Abbiamo il tempo anche di monitorare l'area Ligure perché come saprete ci sono lavori in atto e al momento già ci sono code tra il Bivio della 10 e il Bivio della 7. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione e una buona giornata da Alessandra Canale.